In primo luogo desidero salutare tutte le persone che sono qui per la nostra alleanza. Saludare il mio Pai, che è il nostro grande liderazzo, il nostro popolo. Saludare il mio padre, che è il grande leader del nostro popolo. Saludare il mio fratello, che è un leader del nostro popolo, è un artista che prende porta con sé e espande la forza. Delle tradizioni del nostro popolo. Io mi chiamo Java Bane. Conosciuto come Bane. Buon Bane. O Tante Bane. Sono anche io un leader del nostro lignaggio. Anche io guardiano della nostra foresta. Noi abbiamo mantenuto, abbiamo voluto preservare, abbiamo in realtà preservato le nostre tradizioni, le nostre radici. Siamo una generazione che ha dato continuità al nostro impegno con il nostro popolo, con la nostra comunità. Siamo il vero nativo del Brasile. Siamo un popolo vero, che Oniquin significa o un gente vera. Il popolo vero, la parola unicuin significa popolo vero, gente vera. Abbiamo il nostro proprio idioma. Abbiamo le nostre proprie tradizioni. Abbiamo la nostra forma di vivere con la natura. Abbiamo il nostro modo di vivere con la natura. E in questo momento voglio parlare della situazione che le persone stanno affrontando oggi nel Brasile. Come guardiano del nostro popolo, guardiano della conoscenza. Guardiano della floresta, guardiano degli animali. Io fico contente qui perché questa alianza afferma il nostro compromesso e il nostro dovere. Sono contento di essere qui perché questa alianza afferma il nostro impegno e i nostri doveri. Il nostro popolo è dimostrare al mondo perché il Brasile è dove sta tutta la diversità. Il nostro popolo è il nostro ruolo è quello di mostrare al mondo la nostra diversità. La diversità è la maggior ricchezza dell'Amazonia e del mondo anche perché la resta è la foresta. La diversità è la maggior ricchezza del mondo perché, puoi ripetire, por favor? La diversità è già nell'Amazonia, all'interno dell'Amazonia. Perché noi, unicuin, il popolo unicuin, preserviamo la nostra tradizione, la nostra identità culturale. Perché durante tutto questo processo di civilizzazione, di colonizzazione, molti popoli hanno perso la loro identità e la loro cultura. Trazare questo nella nostra cultura, rappresentando la forma che noi siamo, perché è questo che noi siamo. Nel momento dell'attuazione politica nel Brasile, oggi, con l'attuale governo, in questo momento attuale politico, con l'attuale governo politico, mostrare questo... E' una situazione delicata di parlare della situazione del popolo indigeno. E ora dico che a tutti i politici del mondo, che governano nel mondo... Aquele che è un buon governo, un buon leader... Aquele che ha un buon governo, un buon leader... Governa con conoscimento, con sabedoria... Governa con saggezza, con coscienza... Non excluendo a nessuno del sistema. Non excluendo a nessuno del sistema. E' un buon governo, anche oggi, pensato nel progetto social per i povoli indigeni, per migliorare il suo conhecimento, la forma di vivere, migliorare le condizioni di vita. Perché... Onde sta? Il governo guarda per la comunità indigena, il governo guarda per i povoli indigeni, criticando... Io voglio mostrare la situazione oggi... Quasi sono i punti principali oggi che vengono a mancare... Per tutti i governi... Iniziando dal governo del Brasile che oggi... Non riconosce... Il primo popolo... Il popolo indigeno che già abitava nel Brasile... Non riconosce... Non lo riconosce... Quante culture indigene, quante popolazioni indigene oggi non hanno la terra... La loro terra riconosciuta... Che oggi la maggior briga dei povoli indigeni oggi è per la terra... Che la maggiore difficoltà e battaglia del popolo indigeno oggi è proprio per la terra... La propria terra... E' un diritto dei povoli... E' un diritto del popolo... E' un diritto del essere umano... E' un diritto degli esseri umani... E' un diritto umano di poter avere uno spazio dove poter piantare... E' un diritto umano di poter avere uno spazio dove poter piantare... Per crescere junto con tutto il sistema... Per poter crescere unito a tutto il sistema... Onde sta la situazione? Non da per escludere il popolo... Dove ci sono situazioni dove non si esclude il popolo... Perché cabe la milizia militare, la polizia con preconceito, racismo. Dove invece ci sono situazioni dove c'è la milizia, la polizia militare con pregiudizi, sospetti. Che si muovono con violenza brutale. Adesso è il momento di pensare alla pace, al desiderio della pace per il nostro pianeta. Perché con la violenza non si risolve nulla. Desidero trasmettere il messaggio adesso che tutte le civiltà, tutte le popolazioni... La coscienza. Perché non è il governo che può decidere cosa è meglio fare per noi. Perché noi facciamo la nostra parte, noi facciamo il nostro papel. Perché noi, come popolo indigeno, facciamo la nostra parte. Perché noi abbiamo i nostri pagè, i nostri leader, le nostre donne, i nostri bambini e i nostri anziani. Con questo già è tutto per mostrare che la gente sta qui presente nel momento in cui la gente sta vivendo. Già tutto questo ci mostra che ci siamo, stiamo vivendo, esistiamo. E quelli che sono a favore della protezione della foresta. E quelli che credono che il popolo indigeno merita rispetto e dignità. che tutti i leader politici dell'Europa, dell'America, dell'America centrale, del continente africano, dove nacque tutta la creazione del mio popolo, del popolo che poi si espanse. E questo che io desidero che tutti quelli che ci appoggiano, che appoggino con la coscienza umana. Io ho avuto una visione che l'unica forma di cambiamento è attraverso il conoscenza e la saggezza. Con questo il mondo va cambiando. Con questo, attraverso questo il mondo può cambiare. E quando cambiare, perché non è solo cambiare, cambiare tutto. Tutto che sta in volta. Non è solo cambiare così, tanto per cambiare. È proprio cambiare tutto quello che c'è attorno. La terra sta cambiando. La terra sta cambiando. La terra sta cambiando. Il mare sta cambiando. La foresta sta cambiando. La foresta sta cambiando. Gli animali chiedono protezione. Perci Stiamo. Il mare di spettere di spettere di spettere di spettere di spettere. di pensare a una forma di sostenibilità. Perchè il popolo indigeno Uniquin oggi possa avere una rappresentazione dentro l'università, dentro il mondo accademico, noi desideriamo avvocati, chiediamo professori indigeni, accademici indigeni, chiediamo ingegneri Uniquin, chiediamo un medici Uniquin, che tutti i poveri indigeni possano aiutare le loro comunità, che tutto il popolo indigeno possa aiutare la propria comunità. E questa è la maggiore ricchezza delle nostre genti e del Brasile, ma dice anche dell'umanità, perché il Brasile è il centro. E' il centro dove vivono le maggiori diversità indigene e non indigene. Il Brasile è tutto. Il governo non vuole avere conflitti. Il governo deve applicare progetti, che sono un ricurso che va per l'Estato, per il Brasile. Il governo deve applicare dei progetti, che abbiano un ricurso, che abbiano un ricurso per le persone, per poter aiutare il Brasile. Il Brasile è un momento che è un momento di trasformare, perché nel momento attuale, il Stato e la situazione che vivevamo, il Brasile nel momento ha bisogno di trasformare, perché è un'attuale situazione che stiamo vivendo. Nelle prossime presentazioni elettorali, chiediamo la presenza di politici indigeni, un deputato statale, un deputato federale, un senatore, chi sape la presidenza, e chi può saperlo, un presidente, se Nelson Mandela fu il presidente dell'Africa del Sud, se Nelson Mandela fu il presidente dell'Africa, fu un esempio, questo è un esempio, perché non un presidente indigeno. 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 Già, ci sono stati presidenti indigeni in Bolivia, in Guatemala, e alcuni deputati nordamericani, perché un indigeno non potrebbe essere un presidente. per dimostrare che anche noi abbiamo l'intelligenza e la capacità di lavorare per tutta la società. e cambiare il concetto antico legato a un vecchio pensiero, che oggi noi non siamo solo di arco e fleccia, nel tempo dei nostri antenati siamo stati questi. Ma adesso no, le persone sono connesse in contatto con il mondo intero. E desideriamo farne parte. Ma già facciamo parte, non lo chiediamo, già facciamo parte del mondo attuale. parte, non è che lo desideriamo, lo chiediamo. Facciamo parte del mondo attuale. E con questo proposito siamo la vera nazione Uniquin. Il mio progetto è per l'umanità e per il mondo. e proteggere principalmente la nostra foresta. Per il diritto abbiamo la nostra terra demarcata, riconosciuta per il governo del Stato dell'Acre. Per il diritto abbiamo la nostra terra demarcata per il governo statale dell'Acre. e adesso vogliamo riflorestare. Noi non siamo a favore del desboscamento. Perché là nella floresta tem le planti che stanno là 200 anni. perché lì nella floresta ci sono piante che vivono lì da 200 anni. c'è la pianta che ne radici, le radici di piante che sono lì, sono nate lì. Non si può pensare che per un discorso economico, l'interesse economico, la deforestazione sia un bene. che distrugge queste piante che sono lì da molto tempo. che vengano distrutte queste piante che sono lì da molto tempo. veramente il mio ruolo è quello di aiutare il mio popolo ma tutti i popoli. io vorrei dare qui il mio grande ringraziamento, la mia preghiera che tutti i governanti del mondo che diamo attenzione a voi che siete giornalisti che siete empresari che appoggiate un progetto che va per la soja un progetto che va per l'agronegocio un progetto che vada per il sociale, per le agricolture un progetto che va per la bancada ruralista un progetto che vada per delle banche ruraliste, rurali che al di là di questo ricorso se tivessero 10 progetti grandi come questi già fanno una grande trasformazione per le comunità strumentali se ci fosse stato solo un progetto di questi ci sarebbe già stata una grande trasformazione per il benessere del paese. non è con l'arma che a gente vai trazer soluzioni che le persone possono trovare soluzioni ma con l'educazione e rispettando le altre culture perché noi rispettiamo le altre culture perché siamo tutti uno che non vogliamo soffrire a causa della religione ma ci ripetiamo perché noi abbiamo il nostro proprio credo e voglio che anche le altre religioni come la Chiesa Cattolica rispetto la nostra forma di vita rispetto la nostra forma di vita e il nostro modo di vivere dare un'opportunità e dare un'opportunità alle persone di poter crescere unite e così siamo qui siamo qui insieme abbiamo vita, abbiamo famiglia quindi voglio qui qui e voglio ringraziare ancora una volta la nostra alleanza con l'Italia la nostra famiglia perché voi fate parte della nostra famiglia di medicina la medicina spirituale che fa il nostro coraggio che fa sentire ogni volta il nostro cuore felice che fa sentire ogni volta il nostro cuore felice e ogni volta che sentiamo il cuore felice possiamo essere nella vera stanza nella vera armonia ma chi sente di essere toccato nel cuore per la nostra causa, per la nostra situazione per favore ci aiuti con un progetto con un proprio progetto o con il proprio progetto per una borsa universitaria abbiamo raccomandato sia una rappresentazione che parlano lo spagnolo unico in che parlano lo spagnolo il tedesco unico in che parlano l'italiano unico in che parlano lo spagnolo unico in che parlano il brasiliano unico in che parlano l'unico in e così con tutto questo noi potremo comunicare ancora meglio molto obrigado grazie grazie sunapamu viki sunapamu viki nai panurbhuni nai panurbhuni chaka bhairanima ai 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 a e i e i a i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.